Patenza numero 40, scatolò Riccardo Tutto in run Tutto in run Beh ma ci sta Se vuoi lo salta Vabbè si No C'è un lavoro e poi o li fai tutti i giorni o uno c'è tempo Allora 21 ultimo concorrente Io Ecco C'è stato un valore Mi fai Ta Si Grazie a tutti.